Come dicevamo poco fa, il 24 maggio 2018 con determina un 2018-8-4 a firma dell'attuale dirigente del settore urbanistica che è stata inviata, anche questa cosa molto importante, in copia all'attuale Presidente del Consiglio Comunale, quindi il Consiglio Comunale è stato informato di questa chiusura della conferenza dei servizi da parte dell'amministrazione comunale sul problema Vascarelle, per cui il Presidente del Consiglio magari dovrebbe anche spiegare come mai avendo saputo questa cosa non ne ha messo a parte, ha messo che così sia stato l'Aula, viene chiusa la conferenza dei servizi, formalmente si chiude il 24 maggio 2018, quindi come fa a dire alle otti che si è chiusa nel 2017 quando lui ancora era eletto? Consiglieri commissari, tenete a mente. Quello che poi vorrei sottolineare anche per aprire un focus sul passato, che viene sempre indicato come foriero di chissà quale scempi, di chissà quale danni, vorrei ricordare che appena insediata questa amministrazione la città e il governo presenta una mozione contro la delibera 41-2015 del Consiglio Comunale, che era quella che l'amministrazione Fontana aveva fatto per realizzare un piano di opere strategiche fondamentali, strade, reteniarie, portatorie, marciapiedi, fognature, illuminazioni, arriventi e quant'altro. In quella mozione si chiede di cassare, di chiudere immediatamente la delibera 41 perché Foriera ha detto dalla città al governo, che aveva raccolto anche mille firme quando ero sindaco io, di tutti i più grossi scempi e danni sul territorio. Ebbene non è stato innanzitutto possibile annullarla perché sapeva benissimo anche probabilmente la città al governo che l'ha proposta che una delibera di Consiglio per revocarla deve essere motivata ampiamente e siccome non ci sono motivazioni concrete, la delibera non è stata mai annullata. Si era proposto di sospenderla e io ho commesso anche un errore nel Comunicato Stampa dicendo che è stata sospesa per 12 mesi, non è stata mai sospesa la delibera, è tuttora vigente. In quella delibera, al punto 3 dello schema direttore generale, di tutte le opere che ci proponevamo di fare, c'era tutta una serie di interventi sul quadrante Via delle Sorgenti, Via della Mola Vecchia, Squarciarelli, Via Vecchia di Marino, Via di Vascarelli, che questa amministrazione, sindaco e sottoscritto, si proponeva di realizzare proprio incrociando questo intervento edificatorio perché la filosofia, come abbiamo più volte detto, era governare l'edilizia, governare l'urbanistica e non subirla e dove si capisce che non si può far nulla perché secondo me questo è l'avviso che io realizzo su questa pratica, si va con i privati, si tenta un accordo e se il privato è d'accordo si cerca di monetizzare, ma non a chiacchiere, ma con fatti, con strade, con cavalcavia, c'era anche un cavalcavia sopra il parco di Squarciarelli da realizzare, cose che nessuno ha mai citato in queste commissioni urbanistiche e che anche qui io invito i consiglieri commissari a domandare all'architetto attuale dirigente dell'urbanistica dove sono, ci fa vedere l'evidenza di quello che era la proposta che la Giunta Fontana aveva fatto a fronte di questo intervento ai privati, peraltro con una riduzione di cubatura del 10%, come prevedeva la delibera 41. e questo è il clamoroso, come dire, è ciò che ancora di più fa sorbalzare dalla sedia, perché? Perché la consigliera del PD, tra le tanti, ha avuto anche l'ardire di reclamare una maggiore contrattazione con questi privati, c'è possibile che questo scambio impari con il privato che farà 34 metri cubi, noi non siamo in grado di gestire, di ottenere qualcosa in più di soli 800 metri quadri di parcheggio, perché qui se la cosa si conclude così faranno solo 800 metri quadri cubi di parcheggio, 800 metri quadri cubi di parcheggio a servizio, praticamente, a servizio loro. Però questo è il progetto che la conferenza dei servizi e che Andreotti nel novembre 2017 ha ritenuto meritevole. Dicevo la consigliera del PD, ha detto, eh no, dobbiamo chiedere di più. Cara consigliera del PD, hai approvato all'unanimità, insieme a tutti gli altri consiglieri, il 30 ottobre del 2017, la mozione della città al governo contro la delibera 41, che comunque è ancora vigente, il cui schema direttore al punto 3 prevede queste opere. Prendi quella delibera, se sei ovviamente favorevole e se ritieni che bisogna incrementare il vantaggio a favore del comune, e farla attuare e porta quel punto 3 in commissione e chiedi che nella trattativa o che nella delibera di consiglio che andrete a fare ci sia scritto che, richiamando la delibera 41, voi chiedete a fronte di questo intervento le opere che aveva chiesto l'Aggiunta Fontana e così lo scambio sarà probabilmente meno scuribrato.